Questa è l'isola di La Palma e La Palma è una delle sette isole canarie che appartengono alla Spagna. Questo oggetto alle mie spalle è il Telescopio Nazionale Galileo, attualmente è il telescopio più grande che possiede Italia. Vivevo a Belluno, però praticamente ho vissuto a Padova quando ho fatto l'università, poi ad Asiago quando ho fatto la tesi. Facciamo 11 anni che sono qui perché bisogna fare una scelta quando uno finisce l'università e decidere resto qui e faccio la carriera di ricercatore o lascio quello che ho e vado dove so che c'è lavoro, dove so che mi pagano bene, che posso fare quello per cui ho studiato e sarò sempre a contatto con il top della ricerca. Facciamo che la montagna non è così solida come le Dolomiti.